Matteo Salvini, il leader della Lega, che è il primo partito d'Italia, è il nemico pubblico numero uno e niente meno che il nuovo Benito Mussolini. Tra l'uno e l'altro ci sono delle assonanze, delle consonanze o forse delle differenze. Uno ha la ruspa, l'altro la trebbiatrice, uno indossa la felpa, l'altro la camicia nera, uno va al citofono, l'altro dice torno a farvi sentire la mia voce, uno ha come a geografa Annalisa Chirico, l'altro invece aveva Margherita Sarfatti, uno ha contro le sardine, l'altro aveva a disposizione i maiali della decima mas Siluri a lenta corsa. Ma che senso ha fare un paragone tra Salvini e Mussolini? Uno in fondo Mussolini, il duce, è come Rita Ewart e l'altro Salvini, che è un influencer, è Elettra Lamborghini.